Vediamo se adesso riesco a fare sta ripresa Questa è la locura La cartoria Cezanne in Lodge Una Leitner del 2004 Questa è la Giuliana Fuglieri Siamo appena scesi Vedete che sono abbastanza graffiati Io le tirò su questa Prego Questa è l'inferrio Credo però che stiamo chegando Quindi la città Questa è l'inferno Non c'è l'interno Questa è l'interno Questa è un'interno Non c'è l'interno Non c'è l'interno Non c'è l'interno Questa è un'interno E' un po' semplice. Un po' c'è l'initernale 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 Che ci ha filmato Un po' c'è l'initernale Un po' c'è l'initernale Un po' c'è l'initernale Grazie a tutti 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 Grazie a tutti